Buonasera, buonasera, buonasera! Come va? Io diciamo che ho preso voglia di massacrare qualcuno, o di farmi massacrare molto più facilmente. E quindi eccomi qua. Ah, ok. Me lo trovo da solo. Che facciamo prima, forse? Andiamo all'Hub di Milano, sicuramente. E' più facile che... Ma, whaaat? Questo è già capture the flag, capture the flag, no, voglio... standard free for all, perfetto, join. E adesso ci sarà un po' di casino. Giusto un po'. E vai. Come... Giusto per dire, per anticipare, non sono assolutamente un pro di Unreal Tournament, lo dico subito. però mi diverto, quindi mi basta quello, sinceramente a me. Ho appena ucciso Donald Trump. Ma qua ci sono solo lanciarazzi, scusa che... Che a me va bene, per carità, però... che cazzo? Ma vaffanculo, ho sbagliato. Che bordo... Perché ho messo solo lanciarazzi? Così. Aia. Che casino sono così. Aia. Questo è proprio per farsi male. Solo lanciarazzi così. Questo è solo per farsi male. Letteralmente. Aia. Aia. Double kill. Double kill. Double kill. Aia. Non ho la minima idea di come ho fatto a farla... Ma... Aia. Aia. Ah, in un momento... mi suicido. Ma ci pensano prima loro. Uh! Cazzo. Eh! E va beh, sono ancora pistola. Dammi il lanciarazzi. Sì. un lanciarazzi ma qualcosa prendo ogni tanto non così spesso quanto lo vorrei o probabilmente non così bene come vorrei che casino però come come l'ho preso non lo so neanche io ma questa non ho sicuramente abilità aia 613 ah sto andando bene sto andando bene sicuro ecco oh double kill non mi faccio non mi faccio ammazzare è che loro ci provano di più a quanto pare a ammazzarmi o a provarci quello non sale ho bisogno di missili non così in faccia però ma quello se l'hai preso ok double kill uno non mi rimane di come l'ho fatto il secondo neanche quindi stiamo andando veramente bene tu sei uno lì nascosto eccolo lì ok oh porco giuda che ma oh ma ci sono anche quelli i redeemer da qualche parte sei di vita sei di vita mi sfiorano mi muoro rocket science ecco il maledetto donald trump che mi uccide vedo certi colpi vicino all'orecchio che non avete idea no no ma è poco bordellosa è così con tutti i lanciarazzi no no veramente poco caotica possiamo dire così 3 minutes remaining non mi capisci un cazzo ma quello si è preso il missile nel cu aia dammi i lanciarazzi ok urca carichiamoli tutti e tre random per poi rimanere senza colpi porco giuda grazie quello non lo so come l'ho preso ma mi hanno preso dopo che porzello come sono messo 18 venti sto recuperando prima non penso peggio ma mi sa che la cosa stia per peggiorare comunque 18 venti ma non ce n'è uno positivo eh vaffanculo devo prender ok tiriamo a minchia qualcosa uscirà ma no me l'ha rubato il redeemer beccatevelo tutto infatti oh che cazzo uh one minute remaining double queue multi queue la madonna che cazzo mi ferma eh che non ho razzi c'ho tre di vita urca putt eee micchia come l'ho uccisi ok non l'ho preso neanche oh mio dio dai oh mio dio Dimmi che niente- oh! Beh! Aerorocket kill, multikill! That map is retarded, ok. Yeah, ho fatto l'unica rocket kill! Aerorocket, scusate. Ok. Vabbè! Map with most votes. Non... Thunderland. No ma sono usciti tutti! Ma che carogne! Non è giusto. This is an early version of the game. Mhm. Questa è ancora una pre-alpha. Ed è già giocabilissima. E devo dire che l'avevo già giocata un po' di tempo fa. Oh mio Dio, non di nuovo sto l'orocket. Appena ho deciso di nuovo Donald Trump. No ma sul serio ci... Stinger Minigun. Stinger Ammo. Stinger Ammo. Se non altro c'è qualcosa... Qualc'altra arma anche. Ok. Aia. Ok. Biolancia. Ok. 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 Porco Giuda-san! Oh, non posso morire col Flak! Uh, porco Giuda! Invece sono morto! Non ho altre armi! Dammi cuore! Eh, buonanotte! Dimmi che almeno... Non muore! Non è morto! Non è morto! Porca Troia! No, invece! No, invece! Blah! Oh-oh! Wow Completamente a minchia Lo devo immettere Scazzi Upplasma canna Splatma rifle Cazzo Dai va a fan cu Cucut A fan cu Bleh Bleh Double kill A fan cu l'ho mancato E' a fan cu C'è il mio flac Ho anche il lanciarazzi va bene Anche il lanciarazzi va bene Dai Qualcuno vuole un braccio verde così Tu Oh Oh cocane Urca Prendi questo Ma l'ho presa in faccia Dai Oh 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 cocane Ehh Ehh Ehhh Mi buttava il culo Ehh Ehh Mi buttava il culo a uno col Flak questo è stato il motivo perchè non è consigliabile stare vicino a uno col Flak ma non è Muort con la bolla lì con la merda un rifle non mi sono iniziato a sparare ma non mi sono L'hai segnato a morire, eh? Porco Giuda! Eh, non avevo neanche scelte lì. Oh mio Dio, che mira di merda che c'ho! Ma se sono suici... Ammazzate a vicenda! Non devo aspettare che almeno arrivassi io! Ma com'è l'impressione che ci siano dei bot! Qualcuno mi sembra un po' troppo! Vabbè! Double kill! Dio! Non è che mi puoi lasciare l'anno dell'altro, no? Ma un rocket lancer va bene! Eccolo lì, cazzo! Assurdo! Serve da un network ching! Iiiiiiii! Come l'ho preso? Non ne ho la minima idea! Anche quello non ne ho la minima idea! Anche quello non ne ho la minima idea! 9... 8... 7... 6... 4... 3... 2... 1... Come facessi? Nooo! Overtime! 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 Devo fare una kill veloce! Devo fare una kill veloce! Nooo! Devo fare una kill veloce! Nooo! Accidenti! Rank updated! Livello 4! Nooo! Nooo! Ah, sono belli questi qua! Sono proprio belli! Non che questo qua sia molto meglio! Goalkeeper? Che cazzo è? No, non voglio sapere! Allora ovvero solo di te! Ok! Sembra abbastanza bordelloso. Mi carica un po' delle texture meglio per quelle bandiere che le avevo viste un po'... First Blood! Shredded! Mythico Flak. Nooo! Cazzo! Non l'avevo visto! Immaginavo che sarebbe finita così. Cos'è questo? Bio Rifle, va bene? Ah! Blulz! Un colpo di Flak, che l'ho sprecato male ovviamente. Jump Blulz! Bella sta mappa! Camper! Camper! Non è vero, stavo girando... in giro. Oh, ma c'ho anche una bella mia là, va! Abbiamo finito pure i colpi! Dammi il mio Shafraifo, grazie. Ho anche un Flak, va bene, mi accontento. Mi serve un po' d'energia. Grazie. D'acquisto! Oh, che cazzo! Cazzo! Oh, che cazzo! Oh, che cazzo! Oh, che cazzo! Porco cane! Ma perché non l'ha preso? Non l'ho preso bene! Vacca boia! Oh, che cazzo! 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 Uh, queste sono ancora roba mia però! Ma ti fai splattare? Non si doveva far splattare! Non vedo un cazzo! Io ho tirato a minchia lì, eh! Infatti non ho preso un cazzo in nessuno. Non è stata un'ottima idea, no! Oh, che cazzo! Yeah! e peccato che c'ha un flak, lui uh armatura è shock rifle peccato che l'ho mancato clamorosamente quindi stiamo col flak che va bene così siete più o meno autorizzati a dirmi che sono una mezza sega guarda, guardate non posso dirvi nulla minchia quello che... guardare qua qui arriva... lui no ma altri sì, quindi sarà il caso di levarsi da le balle? Ma forse no. No, questa vita che schifo non fa! Accidenti! Vai alla! Porca vacca, che male! Perché non me lo prendo? Ok, grazie. Accidenti! No, 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 voglio il plasma. Energia, grazie. Prendiamo anche il lancia... Prendi sto lanciarazzi. Grazie! Yeah, di rimbalzo! Non so bene che colpo di culo ho avuto! E' arrivato uno col lanciarazzi da dietro. Lo prendo anch'io, vengo a chiedere la mia vendetta. 3 minuti rimane! 3 minuti rimane! 3 minuti rimane! 3 minuti rimane! 4 minuti rimane! 4 minuti rimane! Wow! Wow! Ma ce ne erano due di cose di vita! Vai Donald Trump! 2 minuti rimane! Loser! Wow! Wow! Cazzo alla zona vicina! Non viva! Non è bastato! Non è precisa! E non ho più colpi! L'ho tirato troppo corto! Porca troia che male! E vabbè ma c'è uno lì! Che palla! Ma puoi anche morirci tu eh! Non è che mi offendo se... E' da poco! C'è qualcun altro qua vero? Che però... Devo mettere in modo che non mi cambi le armi in automatico! No mi fotte tutte le... Come ho fottuto il cambio dell'arma? Se avessi avuto minigun non mi sparavo addosso! Ok! 30 secondi! left! Yeah! Ce n'era qualcun altro qua? C'era! Stiamo con l'affidabile Fleck! 8 7 6 5 4 3 2 1 Ah! L'avevo preso! Ma non abbastanza! Terzo su 6! Praticamente davanti ai bot basta! Il su che è quello! 3 5 6 6 8 8 9 9 10 9 11 11 12 15 16 16 18 20 è del tutto indifferente quindi adesso siamo rimasti io un ungherese e uno svedese sì, non avevo messo ok KAL KAL ok ha avuto un attimo di crisi e sono caduto giù male però se non è morto anche lui non è morto così sniper rifle E piglialo, grazie Qua c'è un mio cadavere AIA SCEMONE Ah, cazzo Oh, ma è precisa sta pistola Ma nooo, è precisa Flak, oh Dai, 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 dai Siamo negli spazi stretti Uh, tipo questo No, stai con Flak Porca miseria Finché sono negli spazi stretti con questo Dovrebbe essere abbastanza facile Spero Come, invece Detto fatto Modona Non ho la minima idea di come ho fatto Spero se è spostato, se no Armour vest Oh, porca putt Raffanculo Yeah Tracolpi, però Tracolpi Forse non me ne faccio niente Eh, sono morto Sti cazzo Sti cazzo Blap È sparito Blap Un po' di shock rifle Oh, poi cosa ho preso? Non c'è più niente lì Eh, vaffanculo Adesso devo finire Sì, ho finito Non so più questo E mi pare che lui sia Armato un po' meglio Andiamo anche a questo Giusto perché almeno Non lo prendo ora Beh Porca Calma Se no faccio ancora Una brutta fine Così 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 Una bomba verde Di quelle che Non ho Sono uccisa vicenda Davanti ai miei occhi Così Non è giusto Non è giusto Così 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 Sermai che riesco a rubarlo Figurati Perfetto wow non mi aspettavo di fare tutti sti salti calmini voglio giù non mi lo scioccano almeno il cane non l'ho preso wow mi cazzo a piovere cadaveri piovono cadaveri altro che le polpette l'ho mancato dovrebbe esserci flak teniamo anche il minigun si ma se trovassi anche qualcuno adesso sarebbe veramente fantastico mi ha vinto ancora lui è entrato qualche pro perché mi sa che non considerarmi nooo porca putt vabbè sono riuscito a prendere uno in qualche modo non di qua è un suicidio questo eh cazzo ce l'ha anche lui cazzo ce l'aveva anche lui il cecchino che troia headshot headshot ho preso tutto con le palle neanche colpendo si oh quella è stata vicina lulz oh via via dove ho più di energia fottetevi double kill salì best mira ever lo so proprio fantastica ma non è così semplice come possa sembrare ve lo assicuro se non l'avete mai provato una via il tournament questo potrebbe essere una buona occasione per farlo se volete sempre se non mi lagga la live per favore oh anche armatura flac 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 non mi laggare la live per favore oh da che cazzo sei e non è morto oh ma no si è anche successo lui ok eh peccato che quello può essere 3 2 1 accidenti accidenti gg vabbè sono l'ultimo ora sono uscita replay spec ah eravamo uscita ok no va bene non vi faccio domani brrr questa qui giusto per perché mi ispira il nome giusto così ma mi sa che non vince vero? direi di no non ha vinto non so se devo sparare per caricare scusami giuro lo faccio subito la prossima volta è proprio un real questo crossfire giusto con un'arma di merda fantastico yeah ho ucciso e mi sono suicidato immediatamente e vai come ho fatto a non mo- ho otto di vita infatti otto di vita grazie non mi è bastata non mi è bastata non mi è bastata yeah wow che casino non si capisce il cazzo non si capisce il cazzo ma no ma ero oh era mio ho tirato a caso mi è andato male mi fai favore di oh yeah ci ha camminato sopra oh vocêским completa oh no 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 Geez fccul perchè laghi così o bs adesso? accidenti eh no è un muore grazie come ha fatto uccidarlo? più o meno come credo che abbia fatto lui shredded ah no ma accidenti non l'ho preso bene adesso si cazzo come ha fatto a uscirne vivo? come ha fatto? ma dai non è possibile ha fatto uscirne vivo cazzo cazzo ah c'è il cecchino si aveva il cecchino cazzo 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 il biorifle se veramente lui dovrebbe essere tipo uno dei non dico forse campioni ma quasi italiani come ho fatto a ucciderlo? yeah double kill aspetta 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 troppo presto ah vaffanculo adesso non c'ho più colpi oh quello mi è passato di vicino e non mi ha cagato quello invece si non ho più colpi non ho più colpi fuck fuck accidenti accidenti flacca vai chi è quello? chi è quello? oh oh eh vabbè ma cazzo sono spawnato lì mi sa che è quello originale è proprio lui mi sa oh oh porc no non è bastato bacca boiazza fuck fuck ah me l'ha rubato maledetti sì vabbè buonanotte qua vabbè buonanotte qua eh no è stato troppo lento lì dovevo schivare meglio double kill oh oh via quel pezzo lì sono quarto su sei e rimango quarto mi sa ecco orco juden che difficile Gigi va Gigi va lo scriviamo se lo è meritato ecco juden se lo è meritato non ho la minima mappa da votare quindi faccio votare agli altri va bene ci sta va bene ha giudicato va bene mi piace e rompa che niente nelle automatiche del lavoro che possono aspettare senza problemi domani ready ready bello che comunque il mio ping è partito da 400 e qui è sceso a 30 35 anche se sta ok non è stabile sui 30 40 va bene 3 3 il match è about to start ho già male al culo eccolo lì eccolo lì e va bene ma fatemi fare qualcosa no non mi farò fare niente vaffanculo mi servono delle armi recenti questo va già meglio è morto così è morto così è morto così è morto così giallo giallo ho preso una facciata contro il coso che mi serve il flak mi serve il flak mi serve il flak dammi flak cazzuola mi è arrivata una palla di roba in faccia facciamo un bel blob penso che mi abbia salvato quel saltino yeah shot rifle dammi il flak immediatamente per favore e va funk no dammi almeno questo almeno vediamo pronto un bel blob e in giacca e male al cuo da anche il naso accidenti calmino lei mi ha tolto lo scudo se non altro va e ma che cazzo non è possibile che palle fang che palle che schifo sta partita sono ultimo madonna che oribile sta partita per me subito eh beh ma non è possibile che palle che calci il culo niente non riesco a fare un cazzo niente non riesco a fare un cazzo niente che calci in culo aia blop 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 sia mai che muore perché ovviamente cazzo cazzo blop 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 oh non ci sono uno si ha lodato ma poi caputana cazzo non ho altre parole se non cazzo ma facciamo che vaffa un culo ma che palle minchia che ca io sono a 4 lui è a 16 ok si vede adesso che sono un po' una seguina no no non sono lì mi dispiace mi ha già fattuto più volte ma non adesso non ho la minima idea di cosa ho fatto infatti non lo so neanche io è quello il problema oh adesso se ne becco uno vicino si becca niente mi capirebbe dove cazzo mirare nooo e vaffan cuuuu campano anche lì puuu questo qua ho fatto veramente schifo ma veramente tanto un po' di energia che ce ne sarà il bisogno uno l'ho ucciso eh Che schifo Mi vergogna un pochino Contro uno che faceva i tornei Che cazzo voglio fare Che cazzo voglio fare Contro quello che faceva Non so se li fa ancora Sinceramente Non so che li faceva Che cazzo voglio fare Sbaglio Mira pure a saltare Cazzo Ma no Aia pure il nervo Del gomito mi sono preso Porco Giuda Che male Oh Dopo questa partita Tra secondi di pausa Anche solo per Mettere insieme Tutti i pezzi di carne Che schifo Cazzuola che male Cazzo che male Buon culo il nervo Ok Dovrei aver ripreso La capacità Di usare Il braccio Sinistro Maia che male Ok Momento Steam Cosa Quanto Oh mio dio È uscito Ecco perché magari La gala Nel frattempo è uscito L'aggiornamento Di Elite Dangerous 8 giga e mezzo Perfetto Oh Svolazziamo un po' che si sa mai svolazzare un po' se serve a qualcosa dubito andiamo nella merda verde io sono quello dietro perché tanto è la mezza sega dai me li ha presi tutti e due vabbè ma quelli che targetto me li massano prima non è giusto ma dai wow non è stata un'ottima idea no ma quello poteva morire che l'ho preso in pieno quello morire sa anche poter mi ha preso in pieno completamente in pieno e anche lui mi ha preso abbastanza in pieno oh no loro rispetto a me sono proprio tutto un altro livello ma totalmente lo sono riuscito a uccidere uno almeno che cazzo per una volta ahia qui si è vendicato si è vendicato abbastanza veloce in pieno oh no 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 non dovevo usare il cecchino dove cazzo sei finito tu se non altro sono un solo ultimo prende il mio shock rifle complimenti alla mia mira sempre di più complimentoni alla mia mira come al solito di più anzi cazzo ce l'ho quasi a prenderlo cazzo anche quello 5 minis remaining almeno ogni tanto uno lo uccido sono ancora l'ultimo non lo sono più adesso sono salvo di nuovo che cazzo se pesta merda merda oh mio dio che calcio in culo che mi sto prendendo abbastanza sonori anche double kill e comunque sono sesto su sei di nuovo capo e raffa al culo veramente totalmente un altro livello totalmente un altro livello poca storia accidenti stai fermo non lo so non lo so Oh cazzo Ok ho finito anche questa Sono fottuto O forse no Probabilmente si Come ho fatto a mancarlo Cazzo Sennò l'altro non sono ultimo Sono ultimo Cazzo Cazzo Che cazzo Minchia Quante scuse Vabbè fammi finire di spira Vabbè fammi finire Quanti calci in culo Ma proprio tanti Io però voglio Round Good Bob No eh Loading Vediamo adesso Quanti calci in culo Lo pigliamo Ok si stabilizzata un attimo Mi faccio davvero 8000 secondi Quindi è scattare che Dai Ok sto Ehm Non vanno bene d'accordo Forse First blood Allora Con quattro di vita Deve cazzo voglio andare Infatti Che cazzo voglio andare Infatti Ehm Ehm Allora Thank you un'arma un po' decente please possibilmente che non mi faccia saldere per aria cazzo merda mi sa che cazzo di modificatore ha preso non lo so non lo voglio scoprire oppure che fosse qualcosa per i danni cazzo 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 almeno uno ogni tanto lasciatemi deve essere io non chiedo tanto almeno uno ogni tanto oh quello era per me quel cecchino credo non prendo dai oh dai oh prendi tutta la vita che puoi prendere da vinto lui qualcuno sta sparando a me e me l'ha anche rubato vabbè senti tu arrangiati pure su quello che mi va bene non mi offendo giuro oh via non prendere quel frac mio io l'ho rubato malissimo io l'ho rubato io l'ho rubato io l'ho rubato io l'ho scopro va fuc uuuhu e va fan cuo adesso devo finire i colpi ovviamente che palle cazata mancia ah si due pistole mi salveranno il culo che colpo di culo ho avuto si 3 minuti 3 minuti il culo è rimane fa culo mi son saltato oh guarda che mi piglia ancora non ho sperato se spero forse faccio più danni cosa dite madonna ma che cazzo di volo fa fare che cazzo perché mi colpio minchia non c'è non c'è non c'è non c'è ma che cazzo di volo fa eh lui aveva vantaggio a cavalcosia no uuuhu uuuu uuuuber damage poi peccato che non son morto come un birra caput troppo presto merda e uccidilo uno adesso muovo male guarda qualcuno mi fa il giro yeah purk eheh io senza missioni e senza armi ho fatto schifo di nuovo tanto per vabbè comunque esci sì perché ho preso solo gran calci in culo e niente questo qua era Unreal Tournament andiamo anche da questo server vediamo un po' no è sbagliato player settings goalkeeper no preferivo no è questo qua questo qui oh un bel face palm eccolo lì ok quindi questo qua era Unreal Tournament la pre-alpha addirittura e devo dire che è già giocabilissimissimo proprio fantastico semplicemente magari non c'è tanta gente che ci gioca al momento e quella che ci gioca è PRO come avete potuto immaginare e vedere quindi quindi qua faccio che salutarvi e ci vediamo direttamente domani direi quindi buonanotte a tutti grazie per la compagnia e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti